Pochi attivi ancora prima di dare il via a questo match, si pronuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Ben ritrovati all'appuntamento su EITV con match e come sempre Daniela Dani. Match che mette in palio i primi tre punti della stagione di UEFA Champions League, fondamentale partire bene. Mi aspetta una gara giocata ad altissima intensità. Le sfide della fase gironi sono spesso più complicate di quanto possono apparire. Raspadori conquista un calcio d'angolo. Tenta il tiro, palla deviata, pallone ancora lì. La mette in area. Di Lorenzo respinge e allontana il pericolo. Questo è lo schieramento iniziale dei padroni di casa. Neret tra i pali. Una maglia per Mario Rui in difesa con Di Lorenzo dal ruolo di Tarzini. Silinski insieme all'obotica in posizione centrale. E un solo attaccante di ruolo che verrà supportato presumibilmente dagli inserimenti dei centrocampisti. Si supera qui il portiere. La mette in area. Riceve qua Raschelia. Buono intervento in tuffo del portiere. Stanno spingendo ormai da diversi minuti. Hanno una buona occasione su questo corner per far male agli avversari. Evita guai. Può girare il pallone. Occasione. Apre su Politano. Si immola su questo tiro. Lo ferma ma non controlla. Silinski. Il tuffo del portiere evita il gol ma la conclusione non era affatto irresistibile. Ordinare amministrazione per uno come lui. Parata più spettacolare. Che difficile questa. Di Lorenzo. Palla per Politano. Lo insieme qua a Raschelia. Possibilità di controvera. Attenzione. L'arbitro non interrompe. C'è norma del vantaggio. Pressione qui sul portatore di palla. Anghissà. Nell'ultimo quarto d'ora i padroni di casa hanno dominato il dato sul possesso palla. Non è stata fin qui tuttavia la giornata migliore per gli attaccanti. Hanno sbagliato troppo là davanti. Devono aggiustare rapidamente la mira se vogliono trovare il gol del vantaggio. Palla regalata. Rinuncia all'impostazione. Vogliono far scoprire gli avversari. Proseguono nella loro avanzata. Vedremo cosa potranno inventare. Raspadori. Palla ancora in gioco. Pericolo. Palla che finisce docile fra le braccia del portiere. Che qualche istante fa è stato davvero protagonista. Se non fosse stato per lui avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Non è solo. Di Lorenzo. La mette sul primo palo. Ingenuità e pallone regalato. C'è spazio per la ripartenza. Pallone interessante. Riceve palla. Pericolo da lì. Conclusione che non può creare problemi questa. Era ben posizionato. Non ho avuto difficoltà a bloccarla. Zilinski. Anghissa. Lo insieme qua a Raschelia. Respinge corto il portiere. Pericolo. C'è l'intervento irregolare. Dopo la respinta. Si rimane come prima. Finisce qui. La prima frazione. Squadra che fanno rientro negli sfogliatoi. Comincia ora il secondo tempo. Pallone tra i piedi di Politano. Di Lorenzo. Possono passare in vantaggio. Attenzione. Traversa. Non è finita. Occhio a qua a Raschelia. C'entra in pieno il difensore. Ed eccolo il gol del vantaggio. Che arriva finalmente. Dopo il dominio di questa squadra. Il replay mostra la troppa sufficienza con cui la difesa ha liberato l'area. Gli avversari hanno approfittato dell'errato disimpegno per recuperare palla. E imbastire l'azione d'attacco che ha portato il gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Raspadori. Lobotka. Politano. Apre sulla bocca. Può metterla da lì. E c'è un altro gol. Vogliono chiuderla. Vantaggio che sale a più due. Ha trovato un gran gol. Come possiamo apprezzare meglio da questo replay. L'ha messa alle spalle del portiere nonostante il pressing del difensore. Ponteggio che è cambiato. Ora conducono per due reti a zero. Intervento fondamentale. Provano a farsi vedere in avanti. Ci mette una pezza e ferma tutto. Può girare il pallone. La mette in mezzo. Bravo qui l'attaccante. Attenzione però al pressing. Grande parata. Super portiere. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Raspadori. Raspadori. Ecco Politano. Riceve di Lorenzo. Apre su Politano. Si guarda attorno per cercare l'opzione migliore. Contrasto efficace nei 16 metri. Perdono nuovamente palla. Di Lorenzo. Zilinski. Provano ad affacciarsi in avanti. Attenzione. Giacomo Raspadori. Deviazione determinante. Era il posto giusto al momento giusto. Krall. Salta l'uomo. Prova il cross. Testa alta. Grande protagonista. Il portiere. Su questa conclusione di testa. E ha dovuto sfoderare una parata davvero numero uno. E per impedire al pallone di entrare. Sostituzione in vista. Mario Rui. Zilinski. Hanno arretrato il loro ragionazione. Adesso stanno concedendo il pallino in mano agli avversari. Grande tempestività di questo intervento. Intervento decisivo in area. L'allenatore si affida a forze fresche. Occhio al corner. Attenta qui la marcatura che lo ha condizionato. Palla fuori dallo specchio della porta. ci sono ancora due minuti da giocare. Conclusione murata. Palla ancora viva. Occhio al suggerimento. Grande occasione. Tilo completamente fuori misura. Tilo completamente fuori misura questo. Finisce qui il match.